Allora ci siamo, Giamiele, grazie per averci dato la possibilità di far sapere, grazie al tuo prestigioso canale di informazione, che noi di Aldo Ceccarelli Show, che siamo presenti con Porto Usano e il Tigre, sempre a Radio Mambo e soprattutto nelle feste che organizziamo qui alla Mesola Dina, in via di Monte del Salzo 39, al Carroco Roma e nei vari locali manifestazioni come quella che ci vedrà protagonisti il giorno di Pasqua qui a Roma con Lazzarino Valdessi e la sua prestigiosa orchestra Bamboleo, che ora tu, Giamiele, intervisterai per far sapere chi sono. Io voglio solamente dire una cosa, che qui alla Mesola Latina, qui con Porto Usano e il Tigre, noi stiamo organizzando un altro importante festival della musica, rumba e del son, con Yoruba Andapo. Yoruba Andapo che tu hai già ripreso lo scorso anno, per la seconda volta qui a Roma e sempre con noi. E poi, attecissimo, il primo reggaeton Roma Festival a Chiube il 20 di maggio, ma il vincitore verrà premiato da Giorghito, lo squadro, che faranno un esclusivo concerto completo a Roma il 20 di maggio. Noi abbiamo una grande fortuna, la direzione artistica di tutti questi eventi ci augura lui, Porto Usano e il Tigre. Buonasera, buonasera, siamo molti contenti ragazzi perché veramente questo è una bellissima manifestazione, un gran evento, soprattutto oggi perché domani ci sarà Pasqua, avremo un gruppo di prima linea, ma non solo loro, arriveranno anche altri come già avevamo accennato, quindi siamo contenti, preparati e grazie a tutti per il supporto, siamo qui, Attivity come sempre. Poi, una cosa importante, abbiamo una console molto ricca, IVA nel Samurai di Cuba, intorno europea, di Gelogo, ma soprattutto Porto Usano e Scile Gallerà dei inediti live, quindi venite, vi aspettiamo ormai oggi perché questo va in onda questa mattina che è Pasqua, gli auguri ve li facciamo dal vivo. Volevo anche ringraziare il Room Perla del Nord che ci darà una benvenita a tutti quanti voi. Sì, grazie soprattutto a loro che comunque ci stanno anche supportando il Room Perla del che è un Room buonissimo che vi conciliamo. Windy Ragazzi, attenti e ci vediamo direttamente al evento. Guarda, guarda, eccolo, eccolo, guarda, guarda, eccolo, arrivato il maestro Lanzarito Valdez. Para me è un gran placer, come sempre, di stare a tuo lato, che tu le dà una tremenda fuerza a la musica latina e soprattutto a la musica latina, la musica cubana, e qui stiamo per la maniera a encenderlo e a dejarlo molto caliente e se hai neve, derretirla. Maestro, come sempre per noi, è un placer tenerelo qui. Come ti senti qui con la visita? Tu sai che tutto il mondo, sperando sempre il gruppo di prima linea. Ustedes sono del top di hace molti anni. Bueno, per noi sempre stare qui è come se stuvieremo in casa, noi sentiamo molto bene, noi sono i nostri amici, 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 è un concepto familiare. Perché tutto il che viene participa come se fosse... Bambuleo è parte dell'ello gossip.